Comodamente seduti intorno a uno dei tanti tavoli imbanditi ci sono Umberto Smaila, il figlio Rudy, Vladimir Luxuria e Fabrizio Corona. L'occasione è ghiotta, come le petanze servite accompagnate dallo champagne a Fiumi. C'è l'inaugurazione dello Smilas a Margherita di Savoia nella ridente e soleggiata Puglia. Tanti i volti VIP arrivati nel locale nuovo di Zecca. C'è anche la sexy girl Patrizia Raddario, Manila Gorio, il sindaco di Margherita di Savoia, Gabriella Carlucci. La musica fa da sottofondo nella notte dei famosi. Corona e Luxuria brindano. L'ex re dei paparazzi, Sezza Belen, viene intervistato come pure Smaila. Immancabili anche le foto di gruppo, tutti insieme appassionatamente. Belli, brutti, famosi e non, starlet e aspiranti tali. L'estate è cominciata!